Le violenze non erano solo fisiche ma anche psicologiche e sono proprio queste forse quelle più gravi perché non lasciano il segno se non solchi nell'anima che difficilmente guariscono con il tempo. Di questo si sarebbe macchiato un padre di etnia sinti sul quale gravano le pesanti accuse di quattro dei suoi cinque figli. Si salva solo l'ultimo genico che ha poco più di un anno. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, le violenze sono iniziate molti anni fa, continue vessazioni, pressioni, violenze verbali, i ragazzi tutti tra 11 e 16 anni erano totalmente sotto scacco del padre anche perché la mamma aveva una personalità troppo fragile per poterlo placare. Per anni le cose sono andate avanti così e tutto sarebbe stato seppellito dalla paura e dal tempo se non fosse stato per il coraggio di una ragazzina di 14 anni che ha chiamato telefono azzurro per denunciare tutto. Il caso arriva in procura a Padova, scattano le indagini, i ragazzi vengono mandati in una struttura protetta dove sono stati sentiti dagli psicologi e dagli agenti di polizia. Accuse confermate, ora il padre padrone rischia il processo.